musica 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 no ragazzi no non per stressare nessuno però io non mi parlo stavo appena per dire meno cose si fanno il meglio è più ci capiamo tutte no voglio solo vedere se la differenza no quello è più buono quello è più buono quelli fanno troppo così per questa munita musica 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 si infatti mi guarda come se parlassi mattina sogniamo tu invece appunto cosa tu chiami sempre palmer eh emerson raker raker ci vorrebbe uno che faccia il suonso emerson raker 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 una mi ho capito che non c'è il modo di fermarti allora fare te quello che vuoi dimmi Dimmi, dimmi, dimmi. Non devi suonarlo te. No, è troppo basso quello lì. Devi suonare quello che è più occulto. Devi suonare questo coltito. Questo qua, guarda. No, no. Cosa vuoi fare? No, no. Si, ma facci fare. Perché sono la cartugia, dopo che hai? Si, ma facci fare. Mi ha detto prima, e poi hai scritto la cosa. Eh si, studiamo. Cosa? Cosa? Studiano! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.